Ciao Gaia, siamo alla quarta lezione e adesso mi fai vedere cortesemente come tu gireresti il volante. Fai dall'altra parte, sembra che il volante scotta, ecco così è come non devi fare. Adesso ti spiego come si fa. Allora Gaia, tieni le mani ferme in questo modo, ferme, gira tutto a destra finché puoi senza staccare, ti fermi, la mano destra si stacca, vai in alto e ruota e poi movimento naturale, più veloce che puoi. Volante 10-10 adesso, ferma così, la stessa cosa, tutto volante a sinistra, tieni ferma, la mano sinistra va sopra e ruoti. Veloce, 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 tutta a destra adesso, vai. Veloce, 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 eccolo qua, sinistra. Complimenti!